Un programma presentato da Buonasera e bentrovati a Pianeta Alma puntata numero due del nuovo spazio di approfondimento di Fano TV dedicato al calcio. Il tempo comincia a stringere la missione salvezza cui è chiamata la squadra Granata passa dalle ultime cinque partite la prima dopo la pausa Pasquale si disputerà domenica a Tivoli oltretutto uno scontro diretto di questa sfida ormai imminente delle cinque che appunto attendono la formazione di Manoni e della situazione in casa Granata tratteremo questa sera con Emanuele Dubaz difensore del Alma Juventus Faro buonasera e benvenuto. Buonasera e con Bubacara Cullibali attaccante della squadra Granata buonasera e benvenuto anche a lui. Dicevamo di questa sfida di domenica a Tivoli dopo la sosta Pasquale che è servita probabilmente a riordinare le idee a ripristinare anche un clima di fiducia che magari nella partita con l'Atletico Ascoli non è sembrato quello ideale per affrontare quest'ultimo ciclo di partite. Come avete vissuto questi giorni di preparazione di questa partita così importante Emanuele? No, penso che la squadra si è preparata bene, ci siamo andati con alta intensità e penso che siamo agguerriti per la partita di domenica, ho visto tutti i compagni di squadra pronti e motivati per far bene. Sicuramente andremo a lottare su ogni pallone con la mentalità, con la volontà di vincere. La partita con l'Atletico Ascoli rappresenta ormai il passato ma rileggendola un attimo è possibile che siate stati condizionati ancora dalla brutta botta di Senigallia e che siate scesi in campo forse non con quell'atteggiamento aggressivo e determinato che magari vi ha caratterizzato in altre circostanze? Penso che un po' l'avevamo ancora sofferta la sconfitta di Senigallia e quindi sicuramente siamo andati in campo con la volontà di vincere, con la volontà di far bene e diciamo di riscattarci. Però magari in qualche momento sono comparse un po' di insicurezze dopo una sconfitta del genere e penso che abbiamo lavorato bene questa settimana per sopperire a queste cose qua. Su cosa vi siete concentrati in particolare in questi giorni? Su quali aspetti tecnici ma anche credo in questa situazione soprattutto mentali? Penso che il mister comunque ci abbia preparato bene sia mentalmente che a livello tattico e ci siamo preparati bene quindi penso che siamo pronti. Siate nella condizione insomma di gestire al meglio questa partita. Bubacar è uno scontro diretto, sappiamo che negli scontri diretti la posta vale doppio perché i punti che si prendono sono punti tolti all'avversario. È una tappa importante di questa missione salvezza quella di domenica? Si, molto. Pensi che questo Tivoli sia alla portata dell'alma? Sì, ma anche secondo me anche le altre partite lo erano. Dipende soprattutto da voi, mi pare di capire. Anche perché voglio dire l'alma ha dimostrato in un passato non così lontano di poter offrire prestazioni di altro livello rispetto a quella pre-pasquale. In particolare ricordiamo quella con il Chieti che sembrava potesse connotare una sorta di svolta in questa stagione. Anche voi avete avuto l'impressione dopo quella partita che il vento fosse girato? Sicuramente era un punto di svolta quella partita là. Penso che dopo anche a Matese abbiamo fatto bene. Abbiamo continuato a dimostrare un bel gioco. Soprattutto un bel atteggiamento. Un bel atteggiamento, esatto. Poi magari la sfida contro l'Aquila ci ha messo un po' in difficoltà. In quel caso magari gli impegni ravvicinati hanno avuto il loro peso. Esatto, magari la stanchezza si era fatta sentire un po'. Però comunque la squadra la vedo molto agguerrita. La vedo sempre motivata a far bene. Ci sta magari avere qualche intoppo durante il percorso. Però vediamo di continuare a dare il massimo. Anche perché nel frattempo era arrivata anche la partita con il Campobasso. Solo un pareggio ma contro la prima della classe. Un pareggio ampiamente meritato in una partita per lunghi tratti condotta dall'Alme. Così, Ubacar. Secondo me, come anche loro meritavano qualcosa in più all'inizio, anche noi... Strada facendo. Sì, secondo me meritavamo pure noi. È quella comunque l'alma che serve in questo finale di stagione. Sì, però secondo me possiamo fare molto di più. Dicevamo di un finale di stagione caratterizzato dagli scontri diretti. Non c'è solo quello con il Tivoli, ma ci sono anche quelli con il Sora e il Real Monterotondo. Sono partite più importanti delle altre oppure a questo punto tutte le partite possono fare la differenza? No, penso che sono cinque finali. Da qua alla fine ogni partita vale veramente allo stesso modo. Quindi vediamo di far bene, vediamo di portare a casa qualche vittoria. Andiamo a vedere le partite che si giocheranno proprio domenica per farci un quadro della situazione. Abbiamo detto già ampiamente della gara di Tivoli. Mentre per quello che riguarda le concorrenti dirette, Vasto Girardi sul campo dell'Atletico Ascoli che sta attraversando un ottimo momento. Non sarà facile per i Molisani. Mentre lo United di Riccione che è in zona play-out fa visita a sua volta al campo basso. Altra partita molto dura. Si gioca anche Real Monterotondo-Sora e la Fossombrone sul campo della Vigor-Senigallia. Il Termoli invece viaggia alla volta di Chieti. Abbiamo detto di Tivoli-Alma-Juventus-Fano. Andiamo a rivedere la partita dell'andata. È un ricordo spiacevole perché il Tivoli passò con un rotondo 3-0 sul campo dei Granata. Allora mi pare non eravate ancora a disposizione del Fano. Il precedente tra l'altro è un po' sconfortante, nel senso non soltanto che si trattò di una sconfitta molto pesante in un momento che si stava delineando come molto negativo, ma perché il Tivoli, proprio come adesso, veniva da un periodo difficile. Allora si lanciò a spese del Fano. Ovviamente l'auspicio che non possa fare lo stesso domenica, perché è un Tivoli che da un mese e mezzo non vince. Ha cambiato nuovamente allenatore nei giorni scorsi, squadra affidata a Cioci, che l'anno scorso il Fano ha incrociato quando guidava il Trastevere. Insomma, anche il Tivoli, come l'Alma, è chiamato a dare una risposta in questa circostanza. Quindi anche da questo punto di vista siete avvisati. Troverete un avversario che è deciso a rilanciarsi. Lo sappiamo, sicuramente lo sappiamo. Lì chi ci avrà più voglia, chi ci avrà più motivazione di vincere la spunterà. Avete studiato questo avversario, qualche caratteristica particolare che è stata messa a fuoco in questi giorni di questo Tivoli, che aveva qualche buona individualità per quello che si è visto all'andata? Penso che il reparto offensivo loro sia ben organizzato. Comunque è una squadra solida e sarà una bella battaglia. All'Alma servono le vittorie. In questo finale di stagione ne sono arrivate troppo poche. In questo campionato soltanto 4-5 se ci aggiungiamo quella di Fossombrone che è stata cancellata a tavolino. Perché poi fondamentalmente questa è una squadra che ha perso relativamente poco, meno di tutte le altre in fondo alla classifica. Però troppi pareggi, Bubacar, 13. Eh, pareggi... Con la regola di tre punti non fanno marciare la classifica. Sono stati tanti. Poi qualche vittoria dove siamo andati in vantaggio, abbiamo preso poi il pareggio. Tipo a Real Monte Rotondo, siamo andati in vantaggio 2-0. Poi il pareggio del 2-2. Poi pure con l'Atletico Ascoli. Eh, là sono stati punti persi. Preziosi che non siete riusciti ad incamerare. Ma se facciamo l'elenco dei rimpianti magari facciamo notte. Si tratta di concentrarsi appunto sulle prossime partite mentre continuiamo a vedere le immagini della gara d'andata dove l'Alma sull'1-0 a proposito di rimpianti costruì questa palla goal direi estremamente favorevole. Bravissimo il portiere del Tivoli a sventare quella situazione. Un po' meno bravo l'attaccante Granata Cardinali in quella circostanza. Poi nella ripresa appunto il Tivoli mise al sicuro il risultato approfittando anche di qualche incertezza difensiva della formazione che allora era affidata al duo Rondina-Spedolini. Vediamo appunto il gol del 2-0 che in pratica ha indirizzato la partita. Tra poco anche il terzo gol della squadra Tiburtina. Due gare in casa, tre in trasferta. A questo proposito possiamo anche vedere dopo il 3-0 del Tivoli che matura lo stesso in circostanze rivedibili. Possiamo vedere quello che sarà il cammino che attende l'Alma di qui alla fine della stagione regolare. La gara di Tivoli il 7 aprile. Poi in casa con Roma-City che è in una posizione di classifica piuttosto tranquilla. Sora che invece deve ancora garantirsi la salvezza. Avezzano ugualmente in trasferta. Anche l'Avezzano è in quota play-off ma tra l'altro vive un momento agitato anche lì di missioni dell'allenatore in questi giorni. Infine il Real Monterotondo il 5 maggio. Credo che a questo punto, certo, giocare in casa è sempre meglio però non bisogna andare per il sottile. Bisogna fare punti ovunque contro chiunque. Esatto. Sarà una guerra e vediamo di spuntarla. Chiunque di voi è stato ospite in questa trasmissione o anche in altre o comunque a fine gara già dallo scorso anno ma anche nel corso di questa stagione ha sempre sottolineato la grande unità di intenti che anima questo gruppo, la grande compattezza. Vissuta dal di dentro, è questa la situazione? Sì, sì, sì. A me poi i compagni stanno anche aiutando tanto. Io poi essendo anche uno che si... riesce ad integrarsi un po' più difficilmente, ci metto un po' più di tempo però loro mi hanno aiutato tanto. Ti hanno dato una grande mano. Emanuele, è la tua sensazione questa di aver trovato un gruppo molto coeso ed è un elemento che comunque una qualche differenza la può fare in queste partite così delicate? No, penso che avere un gruppo unito come quello dell'Arma Juventus Fanon, il nostro, penso sia una grande arma in più, no? In questi momenti difficili. È qui che si vede il vero gruppo, no? E penso che la squadra stia rispondendo nel modo giusto negli allenamenti durante la settimana. Questa fiducia, questo crederci che in qualche modo state portando all'opinione pubblica ripetutamente è un sentimento reale davvero dentro lo spogliatoio l'obiettivo salvezza viene considerato come concreto? No, no, ci crediamo. Ci crediamo fermamente alla salvezza. Salvezza, che dobbiamo essere realisti, probabilmente sarà da raggiungere attraverso i play-out al momento e vediamo la classifica a questo riguardo. L'Arma sarebbe retrocessa per via diretta perché penultima deve per prima cosa provare a superare il vasto Girardi e poi mantenersi a meno di otto lunghezze dalla sest'ultima. Al momento la distanza è appunto inferiore ma chiaramente con cinque partite da giocare tutto può ancora succedere. Vi ponete qualche obiettivo preciso oppure facciamo più punti possibili e poi tiriamo le somme alla fine? Penso che l'obiettivo sia fare più punti possibili, fare più vittorie possibili e poi si veda. Comunque l'obiettivo è far più punti possibile e veder di vincere. E per vincere serve anzitutto chiaramente prendere meno gol possibile ma anche farne perché appunto ne serve almeno uno per portare a casa i tre punti. Quindi responsabilità sicuramente per la difesa perché deve proteggere al meglio guerrieri, responsabilità anche dell'attacco perché bisogna fare gol e in questi casi anche la pressione si può sentire. Bubacar? No, sì, alla fine bisogna fare gol poi difendere tutti insieme il gol poi può arrivare sia da un attaccante che da un difensore perché io poi non... Sì, sento la responsabilità del gol, quello sì, però cerco di non pensarci e aiutare la squadra di non farlo massimo. Arrivare a fare gol e basta, cerco di farlo io il gol. effettivamente in particolare l'Alma è una squadra che può colpire anche con i difensori perché è una squadra strutturata fisicamente sulle palle inattive a giocatori in grado di mettere la palla giusta ed è spesso capitato in questo campionato che proprio da palla inattiva si sia trovato si sia trovata alla rete, non è Emanuele? Esatto, penso che siamo una squadra molto a livello fisico molto forte, molto alta e penso che devono sfruttare al massimo le palle inattive queste occasioni che ci vengono da calcio d'angolo da calcio di punizione e penso sia un fattore importante questo, sì. Occupiamoci adesso delle vostre storie personali Emanuele Dubaz è arrivato a Fano dalla Matera dopo esperienze in Serie D dopo essere cresciuto nella Triestina ricordiamo che tu sei croato nativo di Pula come hai vissuto questa scelta di Fano e se la rifaresti ora a qualche mese di distanza? No, la rifarei sicuramente per il gruppo che ho trovato per l'unicità che c'è di Intenti penso che mi sto trovando molto bene a dicembre c'erano altre possibilità però mi è sempre intrigata la piazza di Fano la vedevo sempre come una piazza rinomata e quindi tra le varie possibilità ho scelto di venire qua e penso di aver fatto bene A proposito di piazza quelle che erano le tue aspettative si sono poi tradotte nella realtà nel senso che anche a livello di ambiente di pubblico hai trovato quello che ti aspettavi pur in una situazione che è sempre stata disagevole perché l'alma sta rincorrendo in pratica dall'inizio No, sicuramente ho trovato una piazza calda una piazza che comunque ci ha supportato è una piazza bella fanno una bella città è una bella storia calcistica e questo si respira nella città Per quello che ti riguarda invece Bubakar sei contento della scelta che hai fatto qualche mese fa sei stato ripagato dalle prestazioni e anche dalla stima che l'ambiente ha manifestato nei tuoi confronti Sì, sì, sì No, in quello non ho mai giocato con in squadre cioè con piazze così Con questo seguito E qui non mi aspettavo per quello che vedevo in tv non mi aspettavo che ci stessero così dietro però i tifosi cioè i tifosi continuano a starci dietro venire a vedere le partite anche in trasferta in trasferte lontane Amatese sono venuti Questo si sente un giocatore avverte questo affetto ed è portato magari a dare quel qualcosina in più No, penso sicuramente sia un armi in più Il fatto di tifosi veramente è una roba incredibile magari ce ne sono stati veramente tanti in ogni trasferta questa è una cosa veramente bella Anche perché poi il malumore è stato manifestato soltanto quando le prestazioni non sono state perfettamente all'altezza dal punto di vista dell'impegno magari dell'atteggiamento come è accaduto con l'attetico Ascoli per il resto c'è stato grande sostegno anche in circostanze negative mi pare Sì, sì No, ma è giusto cioè è giusto quando vieni contestato quando sbagli l'approccio della partita ci sta pareggiare perdere però sul piano dell'impegno non ci si deve far rimproverare niente abbiamo detto dei gol che servono in questo finale di stagione allora per rinfrescare la memoria a Boubacar andiamo a rivedere alcune sue prodezze in questa stagione partendo dalla sua prima era arrivato da pochissimo contro l'Avezzano una delle rare vittorie purtroppo di questa stagione vediamo le immagini ancora faceva parte di quell'alma Tenkorang una perdita importante la sua la sua partenza sicuramente inciso molto in negativo sei d'accordo? io mi ero con lui mi ero approcciato molto subito appena era arrivato ci eravamo legati anche tante ho fatto di amicizia anche in campo comunicavamo molto però poi sono contento per lui per la scelta che è stata fatta per lui perché comunque cioè per me vedere un mio amico che va punta sempre più in alto è sempre una cosa bella anche se magari in questo momento non sta trovando grande spazio a Livorno qui ti ha messo una palla assolutamente invitante che tu comunque hai capitalizzato al meglio però hai fatto qualcosa di ulteriormente significativo contro i Chieti in quella che resta probabilmente la partita più riuscita di questa stagione andiamo a vedere cosa è successo contro la formazione nero-verde dicevamo all'inizio di questa chiacchierata davvero in quella partita ha funzionato tutto Emanuele penso che con la partita l'abbiamo preparata bene anche se il mister era appena arrivato comunque ci ha dato dei suoi concetti di gioco era una bella incognita perché comunque era la prima volta che cambiavamo l'assetto di gioco con una difesa a quattro però penso che abbiamo risposto bene in campo gol di testa è una rarità per te oppure in passato sei riuscito anche a colpire di testa diciamo che non troppo spesso non è la tua specialità diciamo no secondo me se ci vado sono sono bravo però non è una mia specialità e vedremo tra poco ancora Bubacar Koulibaly protagonista anche come uomo assist se non ricordo male in questa circostanza va via di forza prendendo il tempo all'avversario e poi scarichi questo sinistro assolutamente di rara bellezza sono colpi che hai nel tuo repertorio oppure è stata una circostanza un pochino fortunata quello posso dire quello che mi piace stare in quel ruolo partire l'ardo poi accentrarti mi diverto anche quindi quello ti aiuta anche tanto a fare bene in campo e poi nel finale Zanni due volte a segno per un 5-1 che ci auguriamo sia di buon auspicio per questo finale di stagione magari basta anche vincere con un gol di scarto non è necessario farne 5 magari preservarli per le partite successive e allora siamo alla fine ringraziamo Emanuele Dubaz difensore dell'alma di Ventusfano e ringraziamo l'attaccante Granata Bubacar Koulibaly grazie a voi per averci seguito vi aspettiamo venerdì prossimo grazie a tutti Grazie.